Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per materiali dispersi, rallentamenti tra Alto Pascio e Capannori in direzione Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione, restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Sulla Statale 64 Porrettana, all'altezza della Galleria del Signorino, restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Sulla regionale 429 Valdelsa per lavori di sicurezza, divieto di transito dal chilometro 12 al chilometro 17. La viabilità cittadina a Firenze, via Fortini chiusa per un muro crollato, blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!